salve ragazzi oggi è una bella giornata oggi è venerdì una settimana a oggi moriva Gesù in croce quei giorni purtroppo sono già passati e ci stiamo avvicinando sempre di più a sante physio physinedu da noi conosciuto e ci stiamo avvicinando anche anche quest'anno ci stiamo avvicinando a giugno bene da poco ora il compleanno del mitico robotone del maestro gonagai che ha compiuto 40 anni della sua nascita il mitico godrick ragazzi sembra ieri che eravamo incollati alla tv e a sentire quella sigla conora che c'è entrata dentro le orecchie mangialibri di cibernetica goldrick ha compiuto 40 anni 40 anni della sua nascita è veramente un mito cartellinati come goldrick grande mazinga gigrobot d'acciaio e ghettarobot mentre zambo 3 purtroppo non ne fanno più adesso la tv si chiama tv spazzatura mi domanda dove sono andati a finire quei principi di di una volta che ci hanno fatto crescere con questi grandi cartellinati giapponesi 40 anni nasceva goldrick e nasceva anche zio amos a quell'epoca purtroppo io per mia grande venienza sono nato insieme a goldrick sì un anno più o meno un anno di differenza comunque è come se fossimo nati insieme bene questo è tutto ci sentiamo poc'anzi come dico sempre l'appuntamento è riservato stasera alle 21 e 30 e ci vediamo anche domani che sabato di solito di sabato non andiamo in onda ma facciamo un'eccezione visto che l'estate è alle porte e ci dobbiamo preparare perché fra poco preparatevi che inizierà grande caldo è quel caldo che spaccherà le pietre come tutti gli anni bene ci vediamo ci vediamo noi con quella conclusione anche quest'anno si conclude l'anno catechistico e quindi ci saluteremo lì come tutti gli anni ma non vi preoccupate perché amos dopo l'estate a settembre riprende con l'oratorio bene ci vediamo come detto poc'anzi stasera alle 21 e 30 non mancate perché sarà una puntata molto speciale parleremo del grande e mitico robotone del maestro gonagai che ha compiuto 40 anni della sua nascita e io faccio gli auguri anche al maestro gonagai che ci ha fatto crescere con tutti questi grandi robotoni dal mitico kotetsu jigo il grande mazinga mazinga zetta getta robot davyman che ne ha più ne metta bene va dalle ciance ci vediamo poc'anzi ciao titolo del video 40 anni della nascita di godrick ciao